Buongiorno a tutti e benvenuti al terzo Amada Digital Hub. Sono Luca Mulazzi, software leader di Amada Italia ed oggi sono qui con voi per presentarvi Amada My V Factory. In un'epoca in cui la digitalizzazione e l'informatizzazione è diventata parte integrante delle nostre vite, permettendo e consentendoci di collegarci sempre di più tra di noi in qualsiasi punto del mondo, Amada ha deciso di intervenire all'interno delle proprie officine per consentire ai propri clienti di avere tutti i dati di produzione e di lavorazione delle proprie macchine a portata di mano. E la soluzione è Amada My V Factory, il servizio cloud Amada per la visualizzazione dell'intera produzione interconnessa, sempre, ovunque e a portata di mano. Amada My V Factory mi consente di visualizzare i dettagli della produzione e delle lavorazioni delle proprie macchine collegate, un monitoraggio delle lavorazioni in real time, degli indicatori che monitorano l'attività della macchina e spiegano in maniera semplice ed intuitiva lo stato di manutenzione di ogni macchina collegata. Amada My V Factory come funziona? Com'è la sua architettura? All'interno di ogni officina, di ogni azienda, è presente V Factory Connecting Box, il dispositivo hardware che permette la interconnessione con le macchine Amada che consentono una connessione tramite rete. Con l'ausilio di una connessione internet, Amada My V Factory amplia le proprie porte e ci consente di visualizzare tutti i dati di produzione delle macchine sia all'interno della V Factory Connecting Box che nei propri device, nei nostri device. Un tablet, uno smartphone, un browser web, Mac, Windows. Posso visualizzare e accedere a tutti questi dati della mia azienda in qualsiasi momento, sia all'interno della mia officina che all'esterno, in maniera tale che l'imprenditore può avere sotto controllo tutta la propria officina. I vantaggi di Amada My V Factory sono molto semplici. Ci consentono di avere un dato reale e importante della nostra produzione. Quante volte l'imprenditore vuole sapere la sua macchina, come sta lavorando, quanto sta lavorando, quanto è stata in allarme. Adesso era difficile, bisognava andare a chiedere all'interno dell'officina, doveva andare a trovare delle informazioni, consultare delle carte. Questo faceva perdere tempo e non sempre i dati potevano essere attendibili. Amada My V Factory toglie questo problema perché risolve il problema inserendo tutti i dati per l'imprenditore. Amada My V Factory consente il servizio di remote support che ha degli obiettivi ben precisi. Il problema di tutto è essere a fianco del proprio cliente durante l'attività produttiva e sfruttare un vero arsenale tecnologico. Tramite V Factory Connecting Box è possibile avere una segnalazione automatica degli allarmi, un'analisi dei dati della macchina da remoto, una connessione remota da parte di Tecnici Amada per ripartire, un monitoraggio giornaliero della macchina e anche un'analisi video in relazione agli allarmi che sono accorsi all'interno della macchina. C'è anche un altro obiettivo, ovvero l'anima del remote support, un'anima attiva e un'anima predittiva. La prima è che se ho un problema il tecnico Amada si connette in remoto e interviene per farmi ripartire il prima possibile. La seconda è una soluzione unanima interattiva e innovativa, ovvero che è la macchina stessa che fornisce indicazioni sul suo stato di salute per permettere ai tecnici Amada di intervenire chiamando il cliente e spiegando le motivazioni che hanno portato o che stanno portando la macchina a un eventuale problema, in maniera tale da prevenire e togliere qualsiasi fermo macchina e quindi bloccare la produzione. Con l'ausilio di un device come un tablet è possibile consultare i risultati di lavorazione delle proprie macchine Amada andando a visualizzare anche i risultati del funzionamento complessivo della macchina separandolo per tempo di lavorazione, tempo di preparazione, stand-by, tempo di allarme. Avere una quick view su tutta l'officina per vedere quali sono le macchine che stanno producendo, le macchine che sono in allarme, vedendole in una maniera separata sia all'interno di macchine blanking che macchine bending e la possibilità di accedere alle informazioni sullo stato di salute delle proprie macchine andando a vedere le informazioni sui laser, sulle piegatrici ed eventualmente informazioni derivanti dall'analisi delle macchine che possono poi essere interpretate da Tecnici Amada tramite l'assistenza predittiva e il supporto remoto. È stato un piacere potervi mostrare Amada My V Factory e la soluzione per la fabbrica digitale firmata Amada. Grazie a tutti per la partecipazione e vi aspetto al prossimo Amada Digital Hub. Grazie a tutti per la partecipazione